Per fare fronte agli eventi sismici che hanno colpito le Marche dall'agosto 2016, il Governo, insieme al Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani e la Regione Marche, hanno predisposto specifiche misure per velocizzare la rinascita dei territori colpiti a partire dagli edifici inagibili per danni lievi, che possono essere immediatamente riparati e rafforzati senza alcun esborso economico per i cittadini. La procedura è semplice e lineare. Basta individuare nell'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario un professionista abilitato e affidargli l'incarico per la progettazione e la presentazione di tutti i documenti necessari per gli adempimenti amministrativi. Quindi sarà il tecnico a recarsi presso gli uffici per comunicare l'avvio dei lavori e presentare la domanda di contributo all'ufficio speciale. Al cittadino, infatti, è richiesto un solo reale adempimento, comunicare all'ufficio speciale gli estremi del conto corrente che, successivamente alla presentazione della domanda, deve essere aperto presso l'Istituto di Credito Scelto per l'erogazione del contributo. Il contributo verrà erogato direttamente dalla banca all'impresa esecutrice e ai professionisti incaricati. Le spese ammissibili sono coperte al 100%, senza bisogno di alcun anticipo o esborso economico. Infine, è importante ricordare che i lavori devono essere completati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo, termine prorogabile di altri due mesi per giustificati motivi. Ricorda che la domanda di contributo e la documentazione richiesta devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2017. Il futuro si ricostruisce da adesso. Informati subito per far rinascere la tua abitazione, la tua impresa e il tuo territorio. La Regione Marche è al tuo fianco. Grazie a tutti.